Salve a tutti, eravamo arrivati a metà del livello 1-7 e adesso lo continueremo fino alla fine. Ok, ora tanto siamo a posto con le piante. Nello scorso video vi ricordo che avevamo raggiunto il termine di tempo della telecamera. Tutte queste piante sono infortibili. I zombie non riescono neanche ad arrivare a una pianta che già muoio. E ok, siamo all'orda finale, finalmente all'orda finale. Guardate quanti sono. Pogliamo già il patata boom. No, non erano 10. Oh, bellissima pianta, la pianta carnivora! Questa è la pianta carnivora di ora gli zombie che gli stanno vicino. Ma ci vuole un po' per... Prima che si mi sta a masticarla. Ok, ora si possono scegliere le piante. Allora, adesso... Credo che scegua. Partiamo in bellezza con il girasole! Allora, non è via! Credo che ci ne impiegano i zombie di tempo per iniziare la regola, eh? Meglio così. C'è un piccolo. Adesso è un piccolo. Oh, no! No! Oh, no! Oh, no! Oh, no! O, no! Oh, no! Oh, oh! Oh, no! ok Devo sapere dove verranno i giorni, per questo non agisco subito. Oh, ecco che arriva! Il mio buon bambino lo mettiamo qua, ok? Ah, 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 non l'ho lasciato bene. È arrivato, finalmente. Noi, non l'ho lasciato, non l'ho lasciato, non l'ho lasciato. Devo cercarmi la canzoncina di Tornella, più bella. Ok, abbiamo terminato le prime quattro file. Ok. 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 Ok.